Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video in cui voglio parlarvi del fantastico campionato che sta facendo in questo momento l'Atalanta. Secondo voi, adesso una domanda che vi faccio a inizio video, secondo voi l'Atalanta dove può arrivare? Che cosa potrebbe fare? Potrebbe addirittura raggiungere ciò che ha combinato, ciò che ha fatto, il grandissimo sogno dei Leicester dell'anno scorso? Secondo voi è possibile come cosa? Allora andiamo ad analizzare un pochino alcuni parallelismi, andiamo ad analizzare anche secondo me la mia opinione a riguardo. Sicuramente l'Atalanta è una squadra che in questo momento si sta comportando benissimo, Gasperini fa sempre giocare in maniera ottimale le sue squadre, così come col Genoa e così sta facendo anche con l'Atalanta. Ma la cosa fantastica è che sta sfruttando al meglio il potenziale che ha l'Atalanta. Ha dei giovani veramente forti ed era veramente ora che una squadra come l'Atalanta sfruttasse il suo settore giovanile. Perché non so se tutti quanti lo sapete, ma l'Atalanta ha uno dei migliori settori giovanili a livello calcio, secondo me, non solo nazionale, anche internazionalmente parlando. Perché l'Atalanta, mi ricordo quando giocavo, c'erano l'Atalanta e l'Albino Leffe, avevano veramente dei settori giovanili in cui tu appena andavi a giocare contro i loro, straperdevi. C'erano dei giocatori usciti dall'Atalanta, ad esempio, lo so, Inzaghi, oppure adesso quelli che stanno giocando in questo momento, ragazzi, come Gaiardini, eccetera. Lo stesso Cassie che è stato scoperto, oppure basta pensare a Baselli che è stato scoperto sempre dalle giovanili dell'Atalanta. Adesso non mi vengono altri nomi, però comunque tantissimi giocatori sono venuti dalle giovanili dell'Atalanta. Perché l'Atalanta ha sempre puntato sui giovani e ora finalmente sta sfruttando il suo settore giovanile come meglio può. Là davanti ha degli ottimi giocatori, ad esempio basta pensare al Papu Gomez, è veramente fortissimo. Sta giocando veramente bene quest'anno e non solo, Petagna sta segnando molto, però in panchina comunque a Paloschi, a Piniglia là davanti, che comunque sono ottimi giocatori che la mettono spesso dentro. A centrocampo a Gaiardini, a questo Cassie, ragazzi, che è veramente fortissimo. Caldara, poi misto anche con alcuni giocatori di grande esperienza. Per cui, appunto, secondo me l'Atalanta può fare davvero bene. Ovviamente non credo che possa arrivare a fare come l'Eister, anche se sarebbe un sogno ovviamente. Sperare è lecito, però giustamente è un pochino, stiamo andando un pochino oltre. Però sicuramente potrà fare bene. Secondo me l'Atalanta arriverà fra le prime otto, sono convinto. Perché secondo me, con l'entusiasmo, eccetera, il fatto che sia una squadra giovane, era ora. Era ora, ragazzi, che si vedesse una squadra così giovane. Ovvio, l'Eister l'anno scorso, anche se erano molto uniti, come lo sono l'Atalanta quest'anno, un grande mister, come ce l'ha l'Atalanta quest'anno. L'Eister l'anno scorso però aveva dei fenomeni. Aveva Merez, e ce l'ha anche tuttora, però aveva Merez, Kanté, Vardi, ragazzi, quanti gol ha fatto. Cioè, nel senso, è tutt'altro, un altro paragone. Non possiamo paragonarli, ecco. L'Atalanta, come ho detto, ha degli ottimi giovani, ottimi campioni, però è un futuro. Può diventare sicuramente qualcosina, come ad esempio è stato l'Udinese di Guidolin qualche anno fa. Secondo me è giusto sfruttare i giovani, lo sta dimostrando il Milan in questo momento con i suoi giovani, sta andando benissimo, e secondo me dovrebbero iniziarlo a sfruttare. La questione giovanile, perché secondo me in Italia si sta iniziando a vedere qualcosina, rispetto a tanti anni fa, qualche anno fa, diciamo 5-6 anni fa, finalmente si sfrutta di più il settore giovanile. Era ora che si iniziasse a vedere questo, ragazzi. Era ora che si iniziasse a vedere i giovani debuttare. L'altro giorno ha debuttato nella Juventus, Cassie, se non mi sbaglio si chiama in questo momento, no, Cassie è dell'Atalanta, scusate, Kane, Kane, Keane, non so come si pronunci, però il primo giocatore nato nel 2000 che è debutta in Serie A, quindi lo sapete meglio voi come si chiama. per cui si sta iniziando a vedere. Ed era ora finalmente che le squadre italiane facessero debuttare i giovani, perché la nostra nazionale maggiormente ne ha davvero tanto bisogno. Ragazzi, ditemi secondo voi che cosa ne pensate, secondo voi l'Atalanta dove potrà arrivare a fine campionato? Io vi ho detto la mia. Commentate qui sotto, mi raccomando, lasciate un mi piace, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille per aver visto questo video. Un saluto. Ciao da Papirus.